Ragazzi, una scommessa con Sara, non è il dominello, 50 euro per 30 secondi, lei deve stare zitta senza parlare Vai, sei sicura? Vai, amo, però non fai scemo Sì Vai Mantieni Allora, io stasera scendo Con la mia ex Questa ex, io e lei andiamo in un albergo insieme Poi io la tocco, lei mi tocca, io la bacio sul pochino Ma non cazzo, c'è, io, non ti voglio né a tenere 50 euro perché si ti fa Poi